Amici, benvenuti e bentornati nella 1.0.0, cioè non è 1.0.0, non è la versione originale di Minecraft, dove tutto ha inizio. Siamo al secondo giorno, nella 100 giorni challenge, abbiamo preso già del buon ferro, sette di ferro, però oggi torneremo in miniera, dobbiamo cercare di prendere il diamante, quindi senza aspettare altro, devi farci degli stick, facciamoci un piccone in ferro, ok, facciamoci quello a fianco di di pietra, ok, perfetto, facciamoci anche una, ma sta già tramontando, su, ah perché la scorsa volta eravamo rimasti un po' di più, quindi anche questa volta rimarremo un po' di più, niente, lascio un pietra, non lo facciamo a quanto pare, non abbiamo una pietra, facciamo un po' di più, niente, va bene, miniera dai, devo cercarmi una bella vigorosa, non una che fa schifo, avevamo già approfondito, ma anche come io potevo prendere, vabbè, avevamo già approfondito come trovavamo questa versione, i vari, i miei vari punti di vista, ah, è una normale versione di minecast, questo non cambia niente, però che è dei nuovi update, che sono stati fatti dopo questa, la, ad esempio, la texture della carne è diversa rispetto a quella di ora, e se ne troviamo una miniera, immediatamente, subito, la notte ci ammazzano, in un po' di parole, facciamoci, facciamoci, una bella ascia, perché prevedo già di dover combattere brutte cose stanotte, cerchiamo al più presto possibile una miniera dove stanziarci, un villaggio di prima, in teoreggio, l'abbiamo trovato un altro villaggio, non vorrei dire una fake news, no, non mi sento male, ah no, c'era questa sgarra di pecora che mi ha, che mi ha spinto, eh sì, ti spingono le pecore, mi ha spinto la pecore, ma non ti ammè, comunque andiamo in quel villaggio, magari stando lontano dai creeperozzi, ricordiamo che non c'è un geloscudo in questa versione, quindi per ripararci dalle frecce e dai creeper, dalle esplosioni dei creeper, c'è un'unica soluzione, non si può fare niente, mi dispiace, fabbro, 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 qui non vedo nessun fabbro, però c'è un creeper, interessante, è tutto su di me, sì, mi qua, comunque mi è veramente ammazzetto, sto facendo schifo, dice non è per me, ma quello non guardiamo in faccia, in faccia, faccio farla in questa versione, I broke up with my ex-girl here's a number psych that's the wrong number epic save epic save mezzo cuore mia Qua ce n'è una Ah qui è dove sono esploso prima E qua c'è un qualcosa Ok inizia la nostra minerata Che belli che hanno i vecchi suoni di minecraft Ok continuiamo qua se non c'è niente Qua c'è un altro ingresso di una grotta Altro ferro diciamo Ok siamo messi abbastanzamente bene Finora abbiamo preso Quanto ferro? 16 Ah siamo messi egregiamente bene Vai vai Prendiamo questi ultimi Poi vediamo se c'è un altro Sbocco di una miniera Poi incominciamo a fare un tunnel verso il basso rotta a diamanti Vediamo qua cosa c'è C'è altro ferro Non prenderei Qua c'è una stata verso il basso Coordinate Dove sono qua? Ah ecco l'ho trovato Inizio è una 47 Quindi perfetto Dobbiamo scendere gli altri 30 blocchi Almeno Chi è che mi ha osato sparare una friccia? Tanto morì subito Non puoi farlo con quello nuovo di scheletro Ma voi state vedendo tutto il buio? Mi dispiace E niente Scusatemi se state vedendo un po' tutto il buio Intanto mi stanno sparando frecce Mi stanno riuscendo a prendere anche da fermo E' una cosa allucinante che uno scheletro stia così smirato E niente E ora che vado a cecchinarla Cioè lo vado a cucinare Non è ancora meglio Perché è inammissibile Che uno scheletro Faccia così schifo E niente Stai calmo Ok la torcia è scomparuta Oh bello qui Cos'è che vuoi ranga? Sto condividendo un po' di Tutto Non E niente e niente ok anche abbiamo anche i materiali per farmi un acciarino per andare nel vento se c'è un vento infatti ho trovato un'altra miniera voglio esplorare questa a questo punto uè ma io mi trovo dei creeper qua che lato così sbirato magari però sto morendo e poi è meglio almeno manco a cosa andiamo oh mamma mia mi sono andato tutto l'anno e questo è forte questo è una ria non non è sì non 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 Che bello, dove c'ho giudato? Buongiorno Come salire, per favore? Dov'è la sorgente? Per la miseria, una peggio dell'altra Sono kamikaze sti creeper La caverna è troppo pericolosa per me Qua dobbiamo vedere cosa c'è La mia idea è di mettere una bella collata di lava lì Così diventa E diventa un po' troppo tipo di polosa per me Sì, una bella collata di lava lì Stavo per cadere, se cadeva e continuano veramente una bellissima Fine, troppo bella per essere diventata Facciamo così Spacchiamo qua Facciamo shift Ok Qua non c'è una niente Non c'è Lì potrebbe esserci qualcosa Dai, mi sa che l'acqua potrebbe essere... Era perfetto in questo caso Enzi Ecco questo dove vanno Bonito Non c'è Non c'è Nooo Nooo E' un secchio d'acqua E' un secchio d'acqua E' un secchio d'acqua Un spido Spido Un spido Un spido Un spido Un spido E' un spido Un spido Un spido La lava è letale Non dico la parola che la lava ti lava Ma La lavate brucia Tanto tanto Sto rischiando di essere bruciato Tanto tanto E mi sto anche un pochettino Scacazzando nelle mie mutandine Sì amici Mi hanno trovato i diamanti Allora prima di procedere Al setaccio dei diamanti Dobbiamo fare un rituale Per essere I miei e i gandini Per tutta la nostra abilità Bellissima 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok amici abbiamo trovato i primi diamanti I primi diamanti I primi diamanti Scrivetelo nei commenti Scrivetelo nei commenti Aspettiamo di trovarmi altri Per farci Tipo Un'ormatura I pantaloni Oppure ci facciamo un piccone E poi si legge un'altra foto 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 Diciamo che E' naturalmente moddato Il tema E' Un'invasione E noi dobbiamo sopravvivere Non vi dico altro Iscrivetevi Attivate la campanellina E lascia il like per favore Ci vediamo al prossimo video Ciao ciao amici